Cinque immobili, tra questi una villa a Ippocampo di Mare, un maneggio abusivo, sette rapporti finanziari e due imprese individuali commerciali, una nel settore della torreffazione e commercio del caffè e una attiva nel settore del commercio dei fiori. Valore complessivo oltre 2 milioni e mezzo di euro, con i beni sequestrati al termine di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Catania e coordinata dalla DDA della Procura Etnea. La misura di prevenzione patrimoniale ha riguardato Giuseppe Salvatore Lombardo, di 55 anni, e il figlio Salvuccio Junior, di 28 anni, entrambi ritenuti elementi di spicco con ruoli epicali del clan mafioso Cappello. Secondo l'indagine, negli ultimi anni il posto e gli interessi di Giuseppe Salvatore Lombardo, noto come Uciuraru, cugino del bosser Gastolano Salvatore Cappello, in carcere dal 2017, erano curati dal figlio Salvuccio, che in assenza del padre ha accresciuto il suo ruolo all'interno del clan Cappello, diventando un punto di riferimento. Le indagini e gli accertamenti patrimoniali condotti dagli investigatori patrimonialisti della divisione anticrimine della squadra mobile hanno portato a scoprire i diversi beni poi sequestrati. È stata così che è stata sequestrata per la prima volta un'impresa di fiori operante nell'aria davanti al cimitero di Catania. Inoltre, l'analisi dei flussi finanziari in entrata e in uscita dei soggetti interessati, sviluppata anno per anno per più di un decennio attraverso le banche dati delle Forze dell'Ordine, ha evidenziato una forte sperequazione tra i redditi degli indagati e dei loro nuclei familiari e i beni fittiziamente intestati a congiunti e altre persone.